passiamo ora a descrivere uno dei principali strumenti della statistica inferenziale ovvero la stima lo dice la parola stessa è un'approssimazione di un parametro incognito di popolazione attraverso i dati relativi a un campione di stata la popolazione per cui noi abbiamo la popolazione di riferimento in cui siamo interessati a determinare un parametro i parametri essenzialmente sono tre sono la media la varianza e la proporzione la proporzione assolta e facilmente estendibile la percentuale basterà moltiplicare per cento la proporzione per cui ad esempio siamo interessati a determinare all'interno della popolazione mondiale qual è la percentuale di malati di HIV non è che li contiamo tutti ma se siamo un campione da questa popolazione di malati facciamo i nostri calcoli del parametro e poi con l'inferenza estendiamo i dati del campione alla popolazione interna per cui siamo interessati a determinare un parametro incognito alla popolazione e ci sono due criteri fondamentali di stima la stima puntuale e la stima intervallare la stima puntuale attribuisce a questo parametro un valore ovvero un numero leale che scatuisce dal risultato di un'operazione che si chiama stimatore eseguita sui dati campionari per cui fornisce la stima lo stimatore è fisso mentre la stima può variare in funzione del particolare campione che estraggo chiaramente all'interno della popolazione posso estrarre più campioni e ogni campione mi darà una stima ad esempio di media differente l'uno dall'altro lo stimatore è quella funzione che mi permette di effettuare la stima è una funzione f di x il risultato di questa f di x nel determinato campione fa ottenere una stima del parametro di popolazione poi c'è la stima intervallare la stima intervallare invece non attribuisce un singolo valore come la stima puntuale ma un insieme un intervallo di valori un intervallo di valori cui centro la posizione centrale è data dalla stima puntuale e ci dice che con un livello di confidenza abbastanza elevato il parametro della popolazione incognito cadrà all'interno di questo intervallo quindi c'è un insieme di valori il parametro di popolazione nel 95% delle volte cade all'interno di questo intervallo la stima intervallare è anche nota come intervalli di confidenza questo è l'argomento che tratteremo nella prossima lezione mentre la stima puntuale è l'argomento attuale per cui la regola che fornisce la stima è una formula matematica e si chiama stimatore del parametro di popolazione incognito applicando lo stimatore a un determinato campione si ottiene la stima del parametro gli stimatori sono delle variabili aleatorie che hanno una loro distribuzione che si chiama distribuzione campionaria la conoscenza in genere è nota e viene data e quindi la variabile può essere o distribuita secondo una normale una binomiale, una persona, una delle variabili dei modelli teorici che abbiamo visto quindi la conoscenza della distribuzione campionaria ci permette di capire se lo stimatore scelto produrrà con elevata probabilità stime vicino al parametro vero di popolazione le stime sono dei numeri reali e quindi si indicano con le lettere minuscole mentre lo stimatore si indica con le lettere maiuscole ora essendo una stima un'approssimazione del parametro vero di popolazione lo stimatore deve soddisfare delle proprietà ovvero siccome è possibile scegliere stimatori differenti per ottenere la stima dello stesso parametro lo stimatore deve avere delle proprietà per cui può essere scelto rispetto agli altri uno stimatore per cui si dice corretto per qualsiasi valore della dimensione campionaria n se il valore centrale della distribuzione dello stimatore coincide col parametro da stimare per informare lo stimatore t si dirà corretto se il valore atteso dello stimatore sarà uguale al parametro incognito ora il parametro incognito come abbiamo detto possono essere o la media o la varianza o la proporzione per cui se ad esempio stiamo stimando la varianza di popolazione la stima del valore medio dovrà concedere con la varianza per far sì che lo stimatore t sia corretto se questo non avviene lo stimatore chiaramente si dice distorto e la distorsione b di t è data dalla differenza di questi due valori quindi è dato dal valore atteso dello stimatore meno il parametro da stimare dove b sta appunto per distorsione se b di t è maggiore di 0 lo stimatore t di x sovrastima il parametro cioè mi dà una stima che è più grande del valore vero della popolazione se b di t è meno di 0 invece lo stimatore sottostima il parametro vero mi dà un valore reale lo stimatore è inferiore al parametro che stiamo stimando e questa è la proprietà che deve soddisfare il singolo stimatore cioè dato uno stimatore deve essere consistente se è consistente vuol dire che la stima che produce è molto vicina al parametro di popolazione se invece lo stimatore non è corretto sarà distorta e quindi produce una sottostima e una sottostima ora dati due stimatori entrambi corretti uno stimatore è più efficiente dell'altro stimatore se la varianza di t1 è minore della varianza di t2 per cui chiaramente lo stimatore produce delle stime molto vicine al valore vero mentre se entrambi gli stimatori sono distorti allora diremo che t1 è più efficiente di t2 se mse di t1 è minore di mse di t2 dove con mse si definisce l'errore quadratico medio dello stimatore t ed è dato dalla somma tra la varianza dello stimatore t e il quadrato del bias sempre dello stimatore poi c'è la consistenza in media quadratica che è un'altra proprietà che deve soddisfare lo stimatore ovvero lo stimatore tdx è corretto se la varianza di tdx tende a 0 al crescere di n lo stimatore tdx è distorto se mse di tdx tende a 0 al crescere di n per cui se t è corretto si va a vedere il limite di n che tende a infinito di varianza di tdx se invece lo stimatore tdx è distorto si va a vedere l'errore quadratico medio 70 al crescere di n allora queste sono proprietà dello stimatore in genere si può anche saltare questa parte però vediamo un esempio supponiamo di osservare un campione casuale di 10 osservazioni estratto da una popolazione con media mu incognita per cui il parametro da stimare sarà la media di popolazione si vuole stimarlo attraverso un campione e si propongono due stimatori td1 è dato dalla somma delle 10 osservazione diviso 10 per cui non è altro che la media campionaria mentre t2 è dato dalla somma delle 10 osservazione diviso 5 vediamo chi dei due è corretto e chi dei due è distorto per cui il valore atteso del primo stimatore sarà dato dalla speranza matematica di t1 dalla proprietà dell'invarianza per trasformazione lineare della media posso portare la costante che sta dentro la e quindi sarebbe e di x1 più x2 più x10 diviso 10 siccome il valore atteso è invariante porto la costante fuori e quindi è dato da un decimo e della somma ma queste osservazioni sono in genere tutte indipendenti e quindi il valore atteso della somma delle 10 è dato dalla somma dei valori attesi ma questi valori attesi queste osservazioni provengono da una popolazione con media mu quindi i valori attesi saranno tutti mu quindi abbiamo 10 volte mu diviso 10 e fa mu quindi il valore atteso dello stimatore è proprio uguale al parametro da stimare per cui t1 è corretto mentre il secondo stimatore applico le stesse proprietà e ottengo alla fine che il valore atteso del secondo stimatore è dato da 2 mu non è uguale al parametro quindi lo stimatore t2 sarà distorto il bias dello stimatore t2 è dato dal valore atteso di t2 meno il parametro quindi è uguale a mu il bias è positivo per cui t2 sovrastima il parametro vero di popolazione ora abbiamo visto che t1 è corretto mentre t2 è distorto e ci chiediamo qual è lo stimatore più efficiente tra t1 e t2 come potete vedere noi abbiamo dato la dimensione di stimatori corretti solo quando sono o entrambi corretti o entrambi distorti in questo caso invece abbiamo che 1 è corretto e 1 è distorto chiaramente il più efficiente sarà quello che non produce una distorsione ma sarà quello corretto quindi tra i due chiaramente scelgo t1 come stimatore della media mu di popolazione per cui per la stima della media mu di una popolazione che si distribuisce in qualsiasi modo ovvero normale o passone binomiale dove è nota la varianza sigma quadro lo stimatore corretto del parametro mu di popolazione ovvero la media è la media campionaria quindi è sufficiente prendere il campione lo stimatore corretto è la somma delle n osservazioni diviso n quindi lo stimatore t di x che è uguale alla media campionaria x segnata è uguale alla somma delle n osservazioni diviso n questo è la definizione dello stimatore per cui non dipende dal singolo campione io posso fare diverse estrazioni lo stimatore sarà sempre la somma delle n osservazioni diviso n posso estrarre il primo campione di 15 osservazioni e dovrò dividere per 15 il secondo campione di 30 osservazioni e dovrò dividere per 30 quindi la formula dello stimatore è sempre la stessa la stima avverrà applicando lo stimatore al determinato campione ora il valore atteso dello stimatore e di t di x che è uguale a e di x segnato è uguale a mu mentre la varianza campionaria la varianza dello stimatore t di x che è uguale alla varianza di x segnato è uguale a sigma quadro su n adesso vediamo perché ma questi sono il valore atteso dello stimatore e la varianza campionaria allora la media campionaria da che cosa è data? x segnato sarà dato dalla somma delle n osservazioni diviso n quindi 1 su n somma di che va da 1 n di xi se io applico il valore atteso a questa definizione avrò che per la proprietà di invarianza posso portare 1 su n fuori dal valore atteso quindi sarà 1 su n sommatore di che va da 1 n di x con i ora questi sono tutte mu sono n per mu n n semplifica e rimane mu quindi la media campionaria è proprio la media di popolazione la varianza aprivo le stesse caratteristiche so che se devo portare al di fuori la varianza questa si eleva al quadrato quindi è 1 su n quadro le osservazioni ne hanno tutte varianza sigma quadro sono n quindi n per sigma quadro n si semplice con questo quadro e quindi è sigma quadro su n e quindi ho dimostrato che il valore atteso dello stimatore è proprio la mu mentre la varianza campionaria è uguale a sigma quadro su n grazie a tutti Grazie a tutti